qui abbiamo delle connessioni dei tappi qua dentro che sono presenti sempre in questa posizione eccoli qua vediamo come farli questo è un semplice cilindro che è stato estruso qua delle parti anche interne modificatore di soundfair turbo smooth quindi molto semplice questo dietro è l'inizio della presa anche questo in origine era un cilindro sono state estrusse delle parti anche in negativo quindi si fa un'estrusione in positivo poi negativo dei nostri poligoni abbiamo già visto come si fanno l'estrusione in negativo soundfair turbo smooth soundfair in questo caso è tfx 0.1 molto piccolo e turbo smooth due iterazioni poi se lo volete più secco dite 2 e lui diventa più evidente questo è interessante questa parte andiamo in finestra prospettica ok abbiamo turbo smooth band late line quindi io vado a creare una linea mi posiziono su una finestra che in questo caso è la finestra frontale ad esempio faccio queste line piccoli qui vedete vado a creare un modificatore di late quindi una rivoluzione 360 gradi in questo caso sono 39 segmenti front z se premete il tasto z andate nello zoom direttamente sopra l'oggetto ricordatevi sempre di digiwell core flip normals perché sono invertite normali e volendo generate map coordinate attivo dopo di che noi lo andiamo a piegare quindi gli modi mettiamo un modificatore di bende il modificatore di bende ha un angolo e una direzione in questo caso un limite degli effetti senza limite degli effetti lui si piega così quindi lui mi fa questa piega quando io vado inserire limit effect ad esempio lo portiamo a 0 il limit effect cosa fa? crea un limite per cui in relazione alla posizione del mio centro che io ho posizionato qua e alla posizione del upper limit sottostante io che cosa gli sto dicendo? gli sto dicendo guarda che tu il bende lo fai da questa posizione che sarebbe il mio centro di azione fino alla parte sottostante che è questa quindi così si possono ragionare anche con il lower limit e upper limit però se posizionate diciamo il centro dove volete lo gestite delle volte molto più semplicemente quindi viene piegato siamo partiti da un tubo creato con un let è stato piegato modificatore di edit poly in questo caso il modificatore di edit poly viene inserito uno per ridurre un po' la suddivisione degli age quindi vuol dire che alcuni age sono stati selezionati ad esempio in questo modo ed backface disattivati se ne devo rimettere un po' gli rifacciamo un ring e vi consiglio di utilizzare flow connect perchè flow connect tiene in considerazione la curvatura dell'oggetto e ve lo fa più morbido in questo caso si va a scontrare su questa parte soprastante quindi proviamo il connect normale ok in questa situazione diciamo è meglio connect normale poi faremo una estrusione di questo lato che vediamo rappresentato quindi ho semplicemente selezionato questo un lato che sarebbe questo qua sopra e gli ho detto me lo vai a estrudere e lui cosa fa lo porta in alto per dargli un po' lo spessore turbo smooth alla parte finale i cavi che ci sono nella parte sottostante che sono in questo caso dei line hanno un gioco con le spline vediamo un attimo anche queste come si realizzano vado a spegnere tutto quanto ok noi partiamo da una linea quindi si crea una linea direttamente e la linea viene renderizzata quindi render viewport andate a scegliere il diametro e noi sappiamo che quando creiamo una spline non sempre la spline è suddivisa nello stesso modo perchè lei ovviamente tiene in considerazione i vertici che ci sono qua dentro qua i vertici non sono posizionati in modo equidistante quindi qua abbiamo una suddivisione maggiore qua una suddivisione minore anche perchè quando lui si flette in questo caso cerca da introdurre maggiore suddivisioni in relazione a questo coefficiente che è lo step che noi abbiamo messo più step ci sono e più morbide è la nostra spline più suddivisioni ci sono all'interno della spline quando io vado ad inserire un modificatore che si chiama normalize spline il normalize spline in relazione a questo coefficiente che posso aumentare o diminuire che cosa fa? mi va a normalizzare la spline in modo da creare una suddivisione identica questa è molto utile quando io poi devo selezionare i miei elementi e creare un'estrusione degli age verso l'esterno qui abbiamo uno spline relax un piccolo relax della della nostra spline per farla un pochino più morbida perché chiaramente ha delle curve che noi abbiamo fatto un po' manualmente ma su spline relax aumento poi a mount ancora diventa ancora più morbida in questo caso è a 0,1 ma vedete attenzione che se diventano rettilinei poi loro cercano di ottimizzarsi quindi la teniamo come dire un po' più bassa e poi andiamo in edit poly in edit poly io vado ad estrudere la parte sottostante perché la forma è stata creata in quel modo poi ne metto un altro perché in questo che cosa ho fatto sono andato a selezionare tutti questi age che sono presenti qui e ho fatto una estrusione quindi per intenderci ne mettiamo uno edit poly si può fare una cosa di questo genere un ring alternato che poi deciderete voi se va bene con una suddivisione a 1 oppure no ok un loop e da una una estrusione di questi elementi extrude ok vedete come si comporta ok in questo modo quindi facendo questo gioco e si riesce a creare un effetto di tubo un po' di gomma poi come ho detto bisogna chiaramente lavorarci piano piano qua ce ne sono anche un po' di più di suddivisioni e successivamente invece di mettere il turbo smooth smusso lo vediamo senza senza smusso con lo smusso è sufficiente mettere uno smusso trishold si lavora col trishold qui ad esempio è basso lo smusso non entra in azione su tutti i lati questo 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 e questo e questi mi ritieni diciamo un pochino più rettilinei quindi qui è come è stato fatto questo tubo gli altri tubi che sono presenti sono stati realizzati nello stesso modo quindi ce n'è uno qui ce n'è un altro qui c'è un'altra fascetta che comunque è un edit edit poli un oggetto di poli con un modificatore shell quindi è una semplice oggetto poligonale shell edit poli estrusione sound fair turbo smooth ancora quindi vedete che si riescono a costruire poi un po' tutti gli elementi basta avere un po' le nozioni di quelli che sono i comandi di 3ds max ovvio che poi tutte queste spline possono essere modificate successivamente nel senso che io mi faccio tutto questo oggetto mi accorgo che poi vanno in compenetrazione quindi si vanno scontrare direttamente qua dentro quindi molto semplicemente cosa farò andrò ad esempio qua e sui vertici posso mettere anche dei modificatori su diciamo successivi se non voglio andare a disturbare quello che c'è già lì quella posizione vado a selezionare ad esempio questi vertici e dico guarda io uso off selection un attimo qui questo magari diciamo era compenetrato la dentro quindi andava direttamente in compenetrazione con questo oggetto quindi si scontravano per intenderci in questo modo ve li prendete e ve li spostate un attimo in modo molto molto morbido questo perché io vado a fare sì la spline ma poi la devo far girare ad esempio qua la devo far girare ad esempio qua qui si scontrano qui la devo far girare e andava a sbattere contro ad esempio questo tubo idem qua qui andava a sbattere ad esempio contro questo tubo quindi sono tutti elementi che si rifiniscono successivamente quando poi noi abbiamo un po la nostra forma ov no